Il villaggio quartiere in gara La raccomandazione di essere dietro la linea 3, 2, 1, partiti La penultima squadra in gara è partita E si appresta a attraversare le ragnatele E a riempire immediatamente i secchi Il penultimo cartello di questa giornata di gara Strepitosa 2, 04 2, 04 Io è che c'ho il microfono Ma mi avvicinerei moltissimo alla zona della Teca Eccolo lì Metà del secchio finisce dentro E l'altra metà finisce sul ragazzi di Sardegna Sorriso Che rimangono anche un po' sconcertati Però dai ragazzi C'è caldo Dai ci sta E che siete lì da stamattina Però la vostra pazienza So che verrà assolutamente ripagata Eccoli là Anche loro si organizzano come i ragazzi di Quartu Cioè cercano di evitare Di intasare le zone La zona della Teca Insomma perché un secchio venga versato alla volta E' in grado neanche di iscrivermi E lui partecipa Incredibile Incredibile Straordinario Ed è bellissimo che le gare si chiudano Con Con Questa rappresentanza Felicità A voi la linea La bellezza di Quartieri in Gara Che veramente Nelle varie squadre Nei vari quartieri E che peraltro ha voluto fortemente questa manifestazione E quindi è stato molto bello Molto molto bello Quindi avete fatto tutta la padella Sì non avevo dire perché poi vi devono invitare A qualche cosa Ah ecco giusto Sempre proviamo intorno a Con Come siete venuti a A conoscenza di Quartieri in Gara Io stavo correndo E casualmente mi sono venuto l'arrestimento Ah perfetto E venga Tramite internet Poi conoscenza anche Fai tutti sport? Sì Arando vai Arbitro di calcio Arbitro di calcio? Sì Arbitro di calcio Siamo solidari con l'arbitro di calcio Cacetto Cacetto Kickbox Porto il figlio a calcetto Giusto Per terminare i calcoli in regia si stanno facendo per stilare quella che sarà la classifica definitiva Vi ricordo il tempo è un dato è soltanto un dato parziale della classifica definitiva Siamo all'altezza di calcio Siamo all'altezza dello slalom Siamo all'altezza di questo Quartieri in Gara ragazzi sono emozionato siamo arrivati veramente alla fine Signor Fausto ricordo il concorrente più anziano di Quartieri in Gara 77 anni ragazzi ma dove vogliamo andare noi? Quasi fino al segno bianco c'è bisogno di ancora un po' d'acqua e c'è uno scivolone E quello è un fallo, quello è rigore secondo me, quello è rigore tutta la vita E' arrivato il fischio, è arrivato il fischio della nostra giudicessa di Gara E intanto è arrivato Fausto a piantare Io voglio farti subito un intervio, ti do del tu perché abbiamo la stessa età Questa occasione mi ha consentito di riprendere a fare il sport A quale sport unisce il divertimento Io guarda non dovrei tifare ma un po' tifo per voi Cioè non lo dovrei fare però è bella questa cosa qui Grazie Fausto, adesso andate a fare le interviste ufficiali Passare del tempo, essere utilizzate e non dei parcheggi Per cui ritengo che sia veramente importante partecipare a questo tipo di cose Speriamo di farla anche l'anno prossimo Mi dicevano che lei è il presidente di un'associazione che promuove questo tipo di idee Stanno sgavettonando, guardali Francesca ma cosa stai cominciando? Guarda che si vedono Sono caldo e cazzesco Effettivamente quindi i ragazzi si rimpressano A volte si prendono i gavettoni Si prendono i gavettoni Mentre andiamo a intervistare CA17 Alla linea Porto Capo Eccoci con la rappresentativa del quartiere La Palma Vogliamo parlare col signor Enzo Strazella Enzo che ci parla della loro partecipazione al quartiere in gara E della forte motivazione del quartiere La Palma a partecipare Io devo mettere da parte il microfono perché ho una vendetta Devo essere, sono vittima di una vendetta che va assolutamente consumata con il piatto caldo anziché freddo E perderò tutta la credibilità di fronte a lui Ringraziamo la Radio Sintoni che rappresento anche Buonasera il Banco di Sardegna L'Università di Cagliari L'ente foresta del senso italiano Il Coli Sardegna Il centro sportivo E la regione autonoma della Sardegna E tutti i padri istituzionali I comuni di Cagliari Elmas Oserrato Maurizio si deve essere asciugato E abbiamo anche Miss Magnetta Bagnata Tu non hai gareggiato No, ringraziamo a voi per aver concesso anche a me di stare insieme a voi Per la sport umana di macchinata di sport Io penso che lo sport come prima cosa debba essere stare insieme Divertirsi E fare insieme un gesto sportivo che non per forza Le strutture sportive nei quartieri Di portare le persone a fare sport all'aria aperta Parlarci dell'attività, dell'esercito Anche magari dello stand Di cosa succede Dello stand informativo Il capitano Andrea Coppo Soprattutto da complimenti per l'organizzazione Perché non è cosa da poco organizzare una regola di agenda Per coinvolgere tanta gente Per un'organizzazione C'è un motivo molto più importante Cioè coinvolgere la gente A gregarla E tutti concorrono con un unico obiettivo Adesso vi passate il microfono uno per uno Vogliamo il vostro nome di battesimo Ciao a tutti Mi chiamo Michele Primo e secondo anno di Scienze Moto È stato un piacere partecipare Ciao a tutti Sono Alessandro Maurizio Senti Ma ascolta ma un giorno Me l'organizzi un festival di musica alternativo a Sanremo Così finco qualcosa anch'io Grazie Ci proviamo Ci sei Adesso date volume al microfono di Maurizio Che così parla indipendentemente dalla mia pedante voce Che vi ha tediato Perfetto No 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 Non ci siamo Due applausi Allora Tieni un attimo il microfono L'applauso è proprio qui Proviamoci Allora via Pronti Via Perfetto Stiamo migliorando Ok Ringraziamo Conad Perché ci ha dato il contributo È geniale sta roba La uso Serve per poi Acquistarsi Conquistarsi Non acquistarsi Conquistarsi Da Laura Vi posso garantire Perché ho avuto modo di lavorare Di collaborare con loro Che tutti hanno partecipato indipendentemente La classifica E quindi il risultato Del quartiere vincitore Ho sentito Messo due minuti Di poter ringraziare Tutte le persone Che hanno Permesso di poter realizzare Questa bellissima manifestazione Incomincio subito Incomincio subito con gli sconti Soprattutto lo sponsor Me Lo sponsor principale Che ha creduto A questo progetto E che voglio invitare A salire qui Patta Cellino Importante Ci tengo a metterlo in evidenza Non solo ha dato un contributo fondamentale Per la realizzazione di questa manifestazione Ma soprattutto perché ha deciso di regalare Quindi oltre al premio dei 10.000 euro Abbiamo qui l'assegno Eh no L'assegno mio è quello Questi sono i 10.000 euro No Qui c'è stato Mi hanno voluto Scherzo Ok Ecco C'è stato un piccolo Facciamo così Aspetto Ecco qua abbiamo Il quartiere Il quartiere Il quartiere vincitore Che porterà a casa Sono curioso Non mi ha fatto vedere neanche a me il foglio prima Ha coperto un po' Allora Vi invito qua Vi voglio far conoscere Lo staff del centro sportivo italiano Perché sono le persone Che da 14 mesi Stanno lavorando Su questo progetto Centro sportivo italiano Grazie E ovviamente c'è anche Alessandro che è là Che sta facendo le foto Ovviamente adesso vado a comunicare Il vincitore Però Perché poi si comincia con il festeggiamento Fatemi fare l'ultimo ringraziamento Sì Ma è uno Se vuoi D barrolo Grazie Io Io vi voglio bene ragazzi Vi voglio bene Il bene dell'anima Veramente Oggi E' stata un'esperienza Meravigliosa Però E non posso raggiungere Il centro del palco Ok, ci siamo ragazzi, ci siamo Terzo posto, Cagliari 18 Pirli Al primo posto, Cagliari 17 E qualsiasi di poeta, qualsiasi di poeta, qualsiasi di poeta, insieme Bravi campioni Signor posto, Cagliari 17 Bravi Hal! 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 Laiha commir Per avere che Contegno con vero piacere al quartiere di Cagliari di Sapete ma in particolare a Falco il più anziano di tutti ma ha rilassato che si può vincere bravo Falco bravissimi bravo Mariella l'applauso più grande poi andiamo tutti a mangiare per Maurizio Sidi presidente grazie a tutti buon appetito grazie a tutti grazie grazie a tutti grazie a tutti